Siracusa ha indetto l'anno mariano nel settantesimo anniversario della lacrimazione in visita del Presidente della CEI. Sarà il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ad aprire l'anno mariano e indetto dall'Arcevesco di Siracusa Monsignor Francesco Lomanto nel settantesimo anniversario della lacrimazione della Madonna Siracusa. L'apertura avrà luogo sabato 25 marzo alle 17. Il Cardinale Zuppi, Arcevesco di Bologna, presiderà la solenne celebrazione nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime. Questa mattina nel Salone Baranzini del Centro Congresso del Santuario della Madonna delle Lacrime, nel corso di una conferenza stampa, sono state presentate le attività previste nel corso dell'anno e le diverse iniziative programmate. Sono intervenuti l'Arcevesco Monsignor Francesco Lomanto, il Rettore della Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, Don Aurelio Russo. Sul tema suggerito dalle parole di Papa Francesco, le lacrime della Madonna sono un segno della compassione di Dio, l'Arcevesco di Siracusa ha indetto l'anno mariano dal 25 marzo all'8 dicembre del 2023, un'occasione di rinnovamento spirituale e di approfondimento dell'arcano linguaggio delle lacrime di Maria Santissima a Siracusa. Porremo al centro della vita delle nostre comunità parrocchiali il messaggio delle lacrime di Maria e invito fin d'ora a prestare durante quest'anno una particolare attenzione alla cura delle famiglie di quanti sono nella sofferenza e abitano le periferie esistenziali, ha spiegato l'Arcevescovo. Chiuderemo l'anno mariano nella solennità dell'Immacolata Concessione della Beata Vergine Maria. In quel giorno tutte le comunità parrocchiali saranno chiamate a consacrare le famiglie alla Madonna delle Lacrime. Fulcro del cammino saranno i giorni anniversari del 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2023. Durante l'anno mariano sarà possibile ottenere i benefici dell'indulgenza plenaria.